fiori di primavera ciao bambini avete visto che bellissimo sole in questi giorni è ancora inverno ma fra poco arriverà la primavera sapete nel mio giardino sono spuntati dei bellissimi fiori ho deciso di fotografarli e farveli vedere ecco la primula gialla e piccolina sembra quasi che si sia messa la brillantina e il narciso di un bel giallo deciso e la violetta che è sempre perfetta sapete cosa possiamo fare adesso bambini li osserviamo bene bene da vicino vicino dunque la primula è piccola con i petali gialli è gialla anche in centro ma un po più scura le foglie sono grandi e di un bel verde questa primula è gialla ma ne esistono di tanti colori anche il narciso è giallo è un fiore grande con due corone all'interno quella più piccola è di un giallo più intenso ha un lungo stelo verde e le foglie sono lunghe e sottili la violetta è piccola piccola con la corolla viola e gialla al centro attorno a tante foglioline ma adesso bambini li disegnate per me questi bellissimi fiori sì dai lo so che siete capaci mi raccomando aspetto i vostri disegni così li potremo appendere nelle nostre classi non appena ci ritroveremo tutti insieme ciao ciao bambini ciao ciao